Per noi è un'esperienza che facciamo da diversi anni, essendo ormai da 25 anni nel settore del telecontrollo e tutto il ciclo idrico. Quest'anno è un evento particolare perché oltre a uscire da un periodo poco simpatico dal punto di vista sociale, affrontiamo il mondo della digitalizzazione del ciclo idrico integrato che è sicuramente uno dei must del triennio che ci aspetta. Andando un po' in controtendenza c'è tanta esperienza, sono 30 anni di esperienza, di conoscenza di questo settore, a cui affianchiamo ovviamente tantissima ricerca, ricerca che va dal punto di vista elettronico, dal punto di vista informatico e di tutte quelle che sono oggi le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, machine learning e data analytics.